Amici e amici di Euromusica è per me un immenso piacere avere quest'oggi come ospite del nostro appuntamento delle nostre interviste un'artista straordinaria e non ha bisogno di presentazioni l'abbiamo già conosciuta qualche anno fa quando ha partecipato a Sanremo Giovani adesso abbiamo avuto modo di riascoltarla con il suo ultimo album Nature da cui è stato estratto un singolo bellissimo lo zaino sul treno mi riferisco ovviamente a Erika Mu ciao Erika Ciao ciao Beppe grazie grazie a tutti Partiamo proprio dal tuo ultimo singolo lo zaino sul treno ce lo vuoi raccontare? Sì è una canzone che racconta la ricerca dell'empatia in questo zaino dimenticato sul treno dentro c'è il cuore dentro c'è la capacità di amare la cosa che ci rende a noi esseri umani unici nel panorama della natura eppure il nostro superpotere che più di tutti spesso tralasciamo e dimentichiamo appunto metaforicamente il mio zaino sul treno quindi la canzone è un po' un invito a correre veloci e andare a riprendersi questo benedetto zaino ed è una canzone che ho scritto e prodotto a Londra e insomma che risente un po' dell'influenza anche suonore di quest'ultimo periodo della mia vita all'estero C'è letteralmente di tutto in questo album si trovano brani in italiano in inglese c'è anche un brano nel nel tuo dialetto e ammetto un po' l'ho capito essendo io pugliese Ah hai capito? Eh sì Tu di chi sei? Io sono di Bari Vabbè diciamo che come ben sai sicuramente anche i tuoi spettatori sanno basta spostarsi di pochi chilometri per cambiare quasi lì No? Quindi questo è il dialetto biscegliese che voglio dire è abbastanza comprensibile credo per un barese però c'ha le sue peculiarità Eh come è nata l'idea di mettere ossì tanti brani ossì diversi l'uno dall'altro in un unico lavoro? In realtà la ricerca che io ho fatto è stata quella di trovare una sonorità abbastanza unica nel senso di omogenea Cioè all'interno di questo disco non sono tanti suoni che ricorrono sono molto pochi sono molto vicini tra loro però è l'utilizzo di questi suoni che abbiamo cercato di renderlo il più vario possibile Perché uno degli aspetti che io volevo raccontare nel disco uno dei fili che tengono insieme tutti i brani è proprio la varietà di nature che ci sono in un animo Una delle cose che volevo volevo far emergere nel disco uno dei fili conduttori del disco è proprio la complessità dell'animo umano Cioè le nature da qui il titolo plurale le nature che sono dentro ognuno di noi quindi io credo che ognuno di noi sia un essere complesso E quando si tende a semplificarsi è un po' un gioco a perdere è un modo per non aver paura di tutte le nostre componenti Quindi in questo senso volevo dare grande varietà al disco perché grande varietà è nel nostro animo Però allo stesso tempo lo volevo fare utilizzando diciamo una palette di suoni non troppo grande Quindi c'è una grande omogenità nei suoni ma una grande eterogenità nel modo in cui questi suoni sono utilizzati Ammetto e ascoltando questo album ho sentito non po' e sorprese una frattante la cover di sono una donna non sono una santa Ma da dove è nata l'idea di prendere proprio quel brano e di fare un arrangiamento così particolare, così diverso? Io credo innanzitutto che quando si fa una cover bisogna discostarsi dall'originale perché altrimenti non c'è bisogno E' bello trovare nei brani soprattutto quando passa un po' di tempo come in questo caso che sono passati 50 anni dalla pubblicazione del brano originale Trovare una chiave di lettura un po' diversa Allora io e Magiker, il mio produttore, abbiamo deciso di dare un taglio molto ironico a questa canzone Anche portandola un po' verso l'elettronica Perché? E l'ho scelta perché credo che questo brano 50 anni fa abbia segnato un piccolo passaggio nell'immaginario della donna Nelle canzoni del nostro paese Cioè questa donna raccontata nella canzone, seppur certe volte con ingenuità, è comunque una donna che si sente pari all'uomo Che gli dice non mi tentare perché io non sono soltanto una testa, io sono anche un corpo, sono come te Provo le stesse cose che provi tu Quindi secondo me è un piccolo seme che poi piano piano sta germogliando E spero che insomma possa germogliare e fiorire ancora di più questo della parità dei sessi nel nostro paese Che non è ancora raggiunta E quindi mi faceva piacere omaggiare questa artista, tra l'altro anche lei pugliese E la canzone io l'ho rispolverata per la prima volta in occasione di un tour che avevo fatto nel 2019 Che si chiama Grazie dei fiori In cui in ogni tappa omaggiavamo una grande donna della storia E come colonna sonora per la prima volta avevo pensato proprio a questa canzone In questo album ci sono anche molte elaborazioni Tra cui c'è una con Zibba e poi c'è anche la Bonustra Non voglio spoilerare nulla però Quindi se ci vuoi raccontare tu come è nata prima la elaborazione con Zibba E poi l'idea di mettere una Bonustra è un brano meraviglioso tra l'altro Grazie Allora il brano con Zibba nasce perché io ho scritto questa canzone che si chiama Erodere Qualche anno fa ma non avevo trovato ancora la chiave giusta per portarla poi su un album Perché in realtà mi ero resa conto che mancava una voce Cioè era una canzone che doveva essere cantata in due Io e Zibba siamo grandi amici Ci stimiamo moltissimo Io ho già collaborato con lui Abbiamo fatto insieme un brano che ho scritto per lui Che si chiama Quando abbiamo smesso nell'uso album di qualche tempo fa Un suo bellissimo album E quindi mi faceva piacere restituire l'invito E invitarlo sul mio disco Lui ha una voce strana Quindi è stato veramente un grandissimo piacere per me Questa è una canzone molto passionale Che racconta di una storia d'amore paragonata all'erosione di una montagna Anche perché un altro filo conduttore del disco è nature Cioè natura tutto intorno a noi e dentro di noi Quindi paragonando certi processi dell'animo con certi processi della natura In questo caso il processo è l'erosione E poi invece l'altro brano a cui ti riferisci tu Si chiama Felicitagi Felicitagi ed è un brano brasiliano uscito in Brasile dieci anni fa E che per questo compleanno il suo autore cantante originale Ovvero Marcello Genesi ha voluto reinterpretarlo in un'altra lingua Quindi mi ha fatto questo immenso onore di invitarmi A cantarla con lui nella traduzione italiana Che poi è diventata la bonus hack E come hai detto tu è un pezzo molto bello Un pezzo molto positivo Che esula un po' dal sound del disco Ma concettualmente ne è senz'altro parte Mi faceva piacere mettere proprio come bonus track Di grande serenità e grande armonia Ecco è un pezzo che è positivo solo come i brasiliani sanno essere Parliamo un po' dei formati in cui l'album è stato rilasciato Ovvero in digital download, in CD e soprattutto in vinile L'idea di far uscire questo album anche in vinile È vero che adesso è un formato che sta riprendendo piede per fortuna Ma Ready for Save in vinile possa dare un gusto diverso all'ascolto di questo album Sì, senz'altro L'ascolto in vinile è un ascolto che a me piace molto fare Sai che ti dico che io non ho ancora avuto il tempo di ascoltare il mio disco in vinile Perché mi è arrivato poco tempo fa Cioè è arrivato prima a chi l'ha ordinato A chi l'ha comprato in pre-order che a me Quindi oggi è il primo giorno in cui sono a casa E sicuramente me lo ascolterò Per avere questa emozione Perché l'ascolto in vinile è di una qualità più elevata E poi è bellissimo Questa cosa della tua e la tua bia a me fa impazzire Cioè mi piace un sacco l'idea di alzarmi E girare il disco e ricominciare È sempre un gesto che mi piace fare Io credo che comunque ci siano ascoltatori Che hanno voglia di sentire la musica in una buona qualità E ci sono ascoltatori che hanno voglia di possedere in qualche modo la musica Perché la musica non è liquida Non è non soltanto È qualcosa di a volte divisivo Io scrivo spesso pensando alla musica per immagini Ed è anche cosa tridimensionale quando diventa un CD o un vinile Un oggetto che nella nostra casa come un libro Ci ricorda una parte della nostra sensibilità Se è un disco o un libro che ci sono piaciuti Quindi a me piace molto acquistare i dischi e i concerti Soprattutto quando mi è piaciuto il concerto è una cosa che faccio ancora Nonostante io sia, posso dire, forse una nativa digitale Però nella musica sono un'immigrata digitale Perché ho cominciato ad ascoltare senz'altro la musica in CD E parliamo un po' adesso dell'artista Quanto è cresciuta eri a Muda, quel Sanremo giovani del 2012 Se non vado errato, fino a oggi? Beh, sono cresciuta tanto Ero una ragazza molto giovane Sono diventata una donna Per citare la nostra cover E poi sono nove anni di vita vissuta Cambiano tutti noi Se siamo un minimo permeabili Sai che noia se rimanessimo sempre uguali Quindi io umanamente mi sento una persona diversa Senz'altro figlia di quella roba lì Di come ero dieci anni fa Ma anche figlia di tutta la vita che è passata in questo tempo Quindi chissà poi cosa succederà in futuro E anche nella musica io ho sempre cercato di osare nel mio piccolo Di non restare ferma in un punto Di andarmi a cercare qualcosa di diverso Sempre per il discorso che facevamo all'inizio Perché c'è un viaggio interiore talmente gigante da fare Che non si può ignorare quello che si ha dentro Anche quello che non ci piace Anche i lati del nostro carattere Che pensiamo di non avere Il rapporto proprio con noi stessi e con gli altri Attraverso la musica Questo viaggio si fa in una maniera particolarmente intensa E particolarmente interessante Quindi come persona sono sicuramente cambiata E cerco di rifletterlo nelle mie canzoni Tenendo questo legame autentico con quello che sento Tra l'altro in questi anni abbiamo avuto anche modo di ascoltarti In quel di Radio 2 A fare qualche cover di qualche brano Tra cui un anno è rimasta particolarmente impressa La cover è fatto di soldi di Mahmood Facendo alcune frasi proprio nel tuo dialetto Nel dialetto della tua zona E sostituire le frasi di Mahmood Sono nella lingua del suo papà Quindi insomma Molto particolare il fatto E ci metti nel tuo Anche nei brani di altri Quindi anche nelle over Vai a mettere qualcosa di tuo E questo è straordinario Grazie, grazie Quello che ti dicevo prima Io penso che non c'è cosa migliore Per omaggiare qualcuno Di non ricalcarlo Perché siamo unici Quindi è impossibile andare a imitare qualcosa che già esiste Siccome poi le canzoni hanno questo potere magico Che una volta che sono nel mondo Poi smettono quasi di essere dell'autore Ma diventano di tutti Allora è bello trovare ogni volta un taglio di luce diverso Grazie al Radio 2 Social Club Durante questo festival di Sanremo del 2021 Ho esplorato in una settimana con loro i grandi classici di Sanremo E mi sono divertita tantissimo a fare queste cover Mahmood, Diodato, Vasco Rossi, Totokutumi Ne abbiamo fatte veramente tantissime Vecchie, nuove E ogni volta era interessante Anche sviluppare questo lato Ecco, ritorniamo sempre al stesso discorso mio Di interprete Perché quando io scrivo una canzone Perché chiaramente la interpreto Però mi esercito poco sulle cose degli altri Quindi è bello anche mettere la propria impronta In qualcosa che esiste al di fuori di te Va bene, io ti ringrazio per la disponibilità E faccio un invito ai nostri lettori Io lo faccio sempre al termine di ogni intervista Questa volta in particolare perché io in primis Ho ordinato l'album in vinile Quindi invito tutti i nostri lettori ad ascoltare questo bellissimo album Nel formato è più preferito Non per forza in vinile Però comunque ascoltatelo Perché è un viaggio È qualcosa di bellissimo È uno dei pochi album che ho deciso di acquistare nell'ultimo periodo Quindi fidatevi di chi vi sta parlando in questo momento Ancora grazie mille per la disponibilità E speriamo di risentirci presto A presto, grazie ancora Grazie mille